Con la videocamera puoi determinare il punto d'inizio della tua esperienza virtuale. Trascina semplicemente la videocamera nel punto dove lo spettatore dovrebbe cominciare ad esplorare il suo spazio tridensionale realizzato con GoSpace. Clicca Play per l'anteprima. Clicca due volte la camera per aprire l'editor e per poter impostare delle funzioni particolari. Puoi decidere se lo spettatore starà in una posizione fissa, se farlo camminare oppure farlo sovravolare di sopra dello spazio. Puoi anche determinare la velocità in cui si muoveranno lungo lo spazio. Le impostazioni della fotocamera determineranno anche la visione VR con il cardboard. Grazie mille.